Buongiorno, bentornati sul canale. Allora quest'oggi volevo farvi un video riferito in particolare alla buona conservazione e quindi prossimamente vi darò le indicazioni per come fare effettivamente un buon sistema di organizzazione e di conservazione dei vostri alimenti in modo da garantirvi la possibilità di conservarli per lungo tempo ma anche di avere la disponibilità immediata in quale occasione potrebbe essere un'emergenza, una difficoltà, ospiti improvvisi, la mancanza di voler preparare qualcosa o una settimana particolarmente impegnativa in cui avete veramente tante cose da fare e poco tempo per poter cucinare. Allora qui sul tavolo davanti a me ci sono tantissimi ingredienti, intanto potete osservare lì dietro, che mi permetteranno questa settimana in realtà di quasi non cucinare o comunque dedicare il minimissimo ma proprio in termini di 3-5 minuti il tempo da spendere per poter mettere in tavola qualcosa. Indicativamente quello che vi presento oggi sono alimenti che consumiamo assolutamente sicuramente io e mio marito, non tutti li consumano anche i miei figli quindi è vero ma nel caso in cui soprattutto a mezzogiorno il figlio non c'è perché uno lavora e vive fuori casa, l'altro è a scuola quindi non mangia con noi, io comunque ho garantiti tutti i pranzi e alcune cene, potrebbe essere che in alcune situazioni dovrei mettermi anche a cucinare però principalmente solamente per il figlio. Allora perché non mangia il figlio quello che mangiamo noi? Perché hanno dei gusti un po' difficili o meglio un po' sofisticati, al contrario noi siamo molto più semplicistici e quindi a volte non si adegua a quello che mangiamo noi anche se in realtà quello che propongo è un'alimentazione equilibrata, sana, il più possibile integrale e variata. Allora vi mostro subito cosa mangeremo questa settimana. In verità ripensandoci bene se qualcuno lavora fuori casa e ha la possibilità di utilizzare un microonde per scaldare gli alimenti sono soluzioni perfette perché sono pasti con piatto unico equilibrato che si può portare anche in una semplice borsa a frigo ma per comodità per non rompere il vaso scusate e potendolo scaldare al microonde una volta aperto lo scaldi per quattro minuti, il pasto è pronto in questa stagione in cui mangiare qualcosa di caldo fa sicuramente piacere è anche un vero risparmio di tempo, soldi e siamo sicuri di mangiare qualcosa di fatto bene nel senso con ingredienti sani e il più possibile magari casalinghi. È vero uno dice sì ma mangio tutto conservato ma in realtà se io preparo la domenica tre quattro cinque basi è vero io li posso conservare anche per un mese però io proprio in quel mese non so magari tutti i lunedì mangio la zuppa di lenticchie, il martedì mangio il riso, il mercoledì mi faccio una zuppa di zucca e orzo, in questo modo li preparo magari tutti in una giornata e io per un mese ho a disposizione i pasti da portarmi al lavoro quindi è veramente una soluzione conveniente. L'occasione però è quella di dover avere la necessità, quella di dover avere un microonde a disposizione per assurdo, ad esempio nel mio posto di lavoro non c'è qualcuno non so però che ha la possibilità di usarlo. Nei giorni precedenti mi sono dedicata in particolare alla raccolta e alla trasformazione di alcuni alimenti che avevo praticamente preparato, conservato e magari anche stoccato in congelatore. Quindi abbinando a quelli che sono ingredienti freschi e prodotti di qualità che mi arrivano a disposizione tipo le mie uova quasi tutti i giorni oggi sono qui a presentarvi un banchetto che sarà praticamente la base dei miei pasti di tutta la settimana. Allora come alimenti freschi quindi che mi garantiranno vitamine, sali minerali ci sarà la frutta, in questo caso ci sono due mele e l'uva che ho raccolto proprio dalla nostra vigna e ci sarà almeno per due pasti anche tre questa rucolina molto fresca che ho appena lavato e andrò a mettere adesso in fresco. Successivamente, eccomi è caduta una mela pazienza, avremo vitamine che arriveranno direttamente dal kefir quindi al mattino kefir, marmellata di more sempre more 24 quindi di questa estate e sono qua tre pancake quindi un pancake al giorno sono i pancake delle tre colazioni. Sicuramente la colazione poi viene arricchita ma lo stesso modo anche le insalate con della frutta secca quindi semi di zucca oppure pistacchi oppure semi di chia qua sotto, i pinoli che sono là e del sesamo tostato che va benissimo da mettere soprattutto sulle zuppe o anche sulle insalate. Qualche altra forma di frutta che può essere consumata magari a fine pasto o per merenda, qui abbiamo delle pesche sciroppate mentre qui ci sono delle pere cotte quindi anche qua in questo caso sciroppate. Questi quindi sono i dolcetti. Come stuzzichino e passatempo abbiamo delle castagne raccolte e colte e cotte scusatemi ieri. Non mancano i grassi buoni assolutamente fondamentali e necessari dell'olio extravergine di oliva se possibile spremuto a freddo, quelli saranno un cucchiaio ad ogni pasto in ogni versione dei pasti. Dopodiché andiamo a vedere quelli che sono gli alimenti che comporranno principalmente i piatti. La base fondamentale della nostra alimentazione sono i carboidrati che quindi vengono suddivisi in base alla giornata e dovrebbero essere almeno il 55 per cento della porzione del pasto. Abbiamo una pasta pomodoro che è già, anzi in realtà è una pasta in bianco, vedete qua condita solamente con l'olio, che ho preparato ieri in porzione abbondante e quindi ho lasciato una porzione per oggi e andrò a condire con una salsa pomodoro fatta appunto con i pomodori di questa estate. Qua abbiamo due versioni di zuppa, vedete che c'è scritto qua, di zucca, farro e lenticchie. Allora in questa giornata ho cotto un quasi chilo di farro e l'abbiamo consumato direttamente in giornata. Poi ne ho messo una parte sotto vuoto da mettere quindi in congelatore, mentre un'altra parte l'ho cotta e messa sotto sterilizzazione nel vaso e altre due porzioni, anzi tre, una in condita in vaso in questo caso sterilizzato e questa invece in frigorifero che durerà quindi qualche giorno meno. Allora questa, come questa qui, è zucca, lenticchie e farro, quindi bella ricca, in queste sono due porzioni. Anche qui appunto andremo ad arricchire poi con magari un pochino di erba cipollina o qualcosa di fresco che ho a disposizione e l'olio d'oliva, se volete anche un po' di parmigiano. Da quest'altra parte abbiamo del riso che avevo fatto in minestra di riso, l'ho fatto asciugare maggiormente con le verdure, l'ho messo anche qua sotto vuoto e questo può essere consumato semplicemente così, una volta riscaldato, oppure arricchito, è capitato la settimana scorsa di arricchirlo con del gorgonzola, perché a noi piace anche col gorgonzola. Questo che appunto andrà messo in congelatore sarà pronto in qualunque occasione da condire ed appena scaldato con del pesto, in questo caso acquistato perché non avevo più basilico. Per completare il pasto magari della zuppa di zucca, che qui però ripeto abbiamo la verdura, le lenticchie che sono le proteine, andrò ad aggiungere una crema di pomodori verdi, questi degli ultimi che sono usciti dalle piante, con due fettine di pane, mentre ancora quest'altro farro verrà o potrà essere scaldato con i funghi chiodini, in questo caso preparati, raccolti e cotti dalla nostra suocera, dalla mia suocera, dalla nostra nonna, e verrà servito sempre con delle verdure, questo qui è un antipasto piemontese, quindi delle verdure sotto vetro, anche qua, che è un misto con anche un po' di pomodoro, che sono veramente abbondanti e ricche. Non manca ancora un passato di verdura, questo, che potrà essere appunto condito sempre con, questo è principalmente carote, quindi un po' di verdure varie, ma un 80% di carote, che verrà condito con del sesamo, l'olio e mangiato con dei grissini spezzizzati, che nel mentre si saranno appunto seccati. Per completare ancora, se avessimo fame, ad esempio dopo il risotto con le verdure, se non abbiamo messo il gorgonzola, potremo andare a mangiare delle uova sode, ce ne sono tre, quindi a disposizione. Ancora, come dolcino, ci sono anche due panne cotte, queste messe in frigorifero durano tre giorni, quattro giorni, quindi preparando in anticipo, con pochi giorni diciamo di lavoro, poi ho la possibilità di consumare veramente per interi mesi, perché le preparazioni sottovuoto resistono anche per alcuni mesi, addirittura anche degli anni, dipende molto dalla chiusura, dal sigillo. La sottovuoto e congelato, anche qui mi può durare assolutamente per dei mesi. Quello che invece andremo a consumare in maniera più regolare, perché è solamente in frigorifero, quindi la pasta e quest'altro contenitore, come anche le panne cotte, perché la chiusura è diciamo più superficiale e quindi hanno una durata in frigorifero massimo di due o tre giorni. Quindi questi saranno i primi ad essere consumati, questo, questo e il passato di verdura. Dopodiché, allora i funghi anche in questo caso sono cotti, sono freschi, se li mangiamo nel prossimo giorno, quindi stasera o domani, li lascio così, altrimenti li congelo pronti per poi farli insieme al farro. Riso, farro, le verdure, la zuppa, i pomodori, tutte queste conserve che sono chiuse, sterilizzate, sotto vuoto, così come anche le pesche e le pere, possono durare degli anni e non hanno problemi di essere messi in frigorifero, possono essere ritirati in dispensa, come probabilmente già avrete altre volte visto nei miei video. Questi, appunto, che non sono conservati a temperature regolari, cioè specifiche, perché sono a posto già così, e qua vedete che ce n'è una scorta infinita, c'è anche l'uva, un altro antipasto, delle altre salse pomodoro, delle altre marmellate, marmellate di diversi tipi, fichi, prugne, sciroppi, tutto quello che volete. La cosa importante è saper utilizzare il sistema di conservazione ideale. Qui, anche qua, se volessi mettere al forno, magari visto che sono piccole, le quattro zucche, in un'unica volta cucinerei, appunto, le zucche, e poi anche qua deciderò che cosa fanno, se mangiarle come dolce, se renderle in crema, o così via. Però, in realtà, non sono io a cucinarle, è il forno, perché una volta tagliate e messe in forno, cuociono da sole. Quindi, spero di avervi dato le indicazioni del fatto che è possibile semplificarsi, diciamo così, la vita, e avere comunque dei pasti equilibrati, senza poi spendere chissà che cosa, anche perché, ripeto, l'occasione è veramente quella di fare anche una passeggiata, però le castagne sono gratuite. La verdura, una volta messa nell'orto, cresce fortunatamente da sola. Le galline mi regalano le uova e posso essere, diciamo, anche piacevolmente accompagnata e in compagnia delle mie galline. I pomodori, sempre così come questi qua, sono quelli verdi, quindi ultima stagione, questi invece quelli buoni maturi. Il kefir lo preparo con un po' di latte, che acquisto, chiaramente in questo caso sì, ma i batteri buoni del kefir si autoriproducono in maniera esponenziale e i miei pancake, sempre con un po' di kefir e le mie uova, vado a realizzare quelli che sono i dolcetti per la colazione. Le more raccolte anche qua dal rovo, diciamo che effettivamente mi riduco in parte quello che sono le spese, ma ci vuole una buona capacità di gestione della conservazione. Al prossimo video per spiegarvi bene come sterilizzare in maniera sicura. Ed ecco qui uno dei momenti di raccolta delle castagne nel bosco, il momento in cui spacco le nocciole raccolte e successivamente mi dedico alla preparazione di una meravigliosa crema di nocciole con pochi ingredienti. Anche qua ne ho preparati due vasetti sotto vuoto che potrò consumare nei prossimi giorni. Metto a tostare le nocciole, scaldo il latte e frullo il tutto, aggiungo del cioccolato fondente e se non pronta con la mia crema. In ultimo taglio le castagne, le cuocio e vi saluto. Alla prossima!